Nel lontano 1917, due magnanimi Giuseppe e Violante Pitigliani fondarono la prima casa famiglia ebraica che chiamarono il Pitigliani. Molti anni dopo, la casa famiglia decise di aprire le sue porte a tutti i bambini dai 2 ai 18 anni, scoprendo un'importante formula che è quello dello stare insieme in armonia. Ancora oggi, dopo molti anni, questa formula è un piacere di cui tutti possono godere. Vieni al Pitigliani!